Terra Amara anticipazioni. La puntata che vedremo, sarà ricchissima di colpi di scena e sorprese che sconvolgeranno la vita di un personaggio di Terra Amara. Vuoi sapere cosa succede? Bene. Noi siamo pronti. Iniziamo. L'episodio inizia con Fikret che si avvicina a Umit e gli pone la seguente domanda. Cosa pensi che Zuleya farà quando aprirà quella busta misteriosa? Credi che possa effettivamente porre fine al suo matrimonio con Demir? Prima di rispondere, come se stesse meditando attentamente su ogni parola, Umit sottolinea. Se fossi io a scoprire un tradimento così evidente tramite delle foto compromettenti, non avrei esitazioni nel voltare le spalle all'amore della mia vita. Con il cuore che gli batte forte, prosegue. Nessuno potrebbe rimanere indifferente di fronte a una tale rivelazione. Tuttavia, in modo inaspettato, un sorriso malizioso appare sulle labbra di Fikret, che commenta. Sai, ho il sospetto che quando Zuleya vedrà quelle immagini, non si fermerà a piangere. Potrebbe addirittura desiderare vendicarsi in modo deciso su Demir. Umit. Con occhi preoccupati, chiede quasi sussurrando. Credi che possa persino arrivare a morire? Fikret. Con un tono freddo, risponde. Forse è il destino che l'aspetta. E se così fosse, tutto finalmente troverebbe un senso. Umit confessa con voce tremante. Non so come potrei affrontare un mondo senza Demir. Fikret. Con uno sguardo malinconico, medita. Se Demir dovesse scomparire, potrei finalmente godere di libertà accanto a Mujgan e trovare quella felicità che ho sempre cercato. Nel frattempo, Umit ammette con sincerità. Tutto ciò che desidero è una vita serena con Demir. Postino arriva alla villa Yaman alla ricerca di Zuleya. Sevda gli fa notare che Zuleya non è presente e, al suo posto, prende la busta. Mentre tiene la busta tra le mani, una strana sensazione la pervade, e spinta da una curiosità irresistibile, decide di aprirla. Il suo cuore batte forte quando gli occhi cadono sulle foto compromettenti di Umit e Demir. Senza esitazione, Sevda si precipita in ospedale con determinazione, pronta a confrontarsi con Umit. Con rabbia, gli lancia la busta e lo accusa per il suo comportamento. Umit, con un tono di sfida, le risponde. Da quando ha iniziato a controllare la posta di Zuleya? Sevda, furiosa, la rimprovera e le ricorda che Demir non proverà mai nulla per lei, esortandola ad accettare la realtà e andare avanti. Con voce carica di rabbia, Sevda esclama. Non permetterò che tu rovini la vita di Zuleya e Demir. Perché sei così ossessionata da questo desiderio di distruzione? Umit risponde in modo enigmatico. Forse c'è qualcosa nelle mie vene. Forse è il destino da cui non posso sfuggire. Sevda, incredula, le chiede cosa stia cercando di comunicarle e la esorta a rivelare la verità prima che sia troppo tardi. Umit, con un tono provocatorio, le domanda. Hai paura che io possa essere come te? Che il nostro destino possa essere lo stesso? Sevda, sconvolta, le chiede se abbia perso il senno e insiste per spiegazioni chiare. Con uno sguardo intenso, Umit estrae una fotografia che mostra una giovane donna con un bambino tra le braccia. Sevda, con il cuore in gola, rimane senza parole. Quando Umit finalmente rivela la verità, la bambina nella foto sono io, e io sono tua figlia. Sevda, con gli occhi lucidi, guarda la foto, incapace di articolare una sola parola. Con un tono accusatorio, chiede a Umit che tipo di madre potrebbe essere e se si sia mai pentita di averla abbandonata per un amore effimero. Con la voce spezzata dall'emozione, Sevda risponde, avrei preferito che mi dicessero che eri morta alla nascita. Così non avrei dovuto portare il peso della colpa e dell'odio per il tuo abbandono. Ogni notte sognavo di poterti incontrare, di poterti dire quanto mi dispiacesse. E ogni giorno che passava, il mio rimorso e il mio dolore crescevano. Umit, con un gesto repentino, afferra la fotografia dalle mani di Sevda e esclama, questa è l'unica connessione che ho con te, l'unico frammento del nostro passato. La tua assenza ha scavato una ferita indelebile nel mio cuore. Avrei preferito che fossi stata portata via dalla morte piuttosto che vivere con il dolore di essere stata abbandonata da te quando avevo più bisogno di te. Sevda crolla a terra priva di sensi, e umit, terrorizzata, grida per chiedere aiuto. In pochi istanti, le infermiere arrivano con voce tremante, segnalando il delicato stato cardiaco di Sevda e il rischio di un infarto. Senza esitazione, la sistemano su una barella, pronte a intervenire. Nel frattempo, Zuleya, all'oscuro di quanto è appena accaduto, si dirige verso l'ospedale con l'intenzione di visitare Umit. Quando entra nel suo ufficio, si rende conto che la stanza è vuota. Mentre aspetta, il suo sguardo cade su un oggetto semi nascosto su una sedia. Prima che possa indagare ulteriormente, l'arrivo improvviso di Mushgan interrompe la scena. Con sorpresa. Chiede. Cosa stai facendo qui? Mushgan. Notando le foto compromettenti, le afferra rapidamente cercando di nasconderle. Poi, con ansia, chiede a Zuleya se sia venuta a trovare Sevda. Zuleya. Confusa. Domanda. Cosa è successo a Sevda? Mushgan. Con espressione preoccupata, rivela che ha avuto un malore ed è stata portata d'urgenza al pronto soccorso. Zuleya. Con un nodo alla gola, si precipita da Sevda. Più tardi, quando Sevda riprende conoscenza, Zuleya, con gli occhi lucidi, le chiede come si sente. Con un debole sorriso, Sevda risponde che sta bene. Cerca di capire quanto sia accaduto e si rivolge a Umit. Domandandole se l'incidente è stato causato dai problemi cardiaci di Sevda. Umit conferma che Sevda ha avuto un infarto, ma ora è fuori pericolo. Sevda, con gli occhi velati di tristezza, sembra immersa nei suoi pensieri. Zuleya nota il suo stato d'animo e si avvicina delicatamente, chiedendole cosa la preoccupi così profondamente. Con difficoltà a trattenere le lacrime, Sevda risponde, non è il pianto, ma la paura che mi hai causato dopo l'infarto. Zuleya, con il cuore in gola, prende il telefono e chiama alla villa per informare gli altri dell'accaduto. Mentre parlano, l'arrivo affrettato di Demir interrompe la tensione. Con il viso pallido e preoccupato, chiede cosa sia successo. Sevda cerca di mantenere la calma e spiega dell'infarto, mentre con voce tremante cerca di comprendere come tutto ciò sia potuto accadere. Sevda, cercando di tranquillizzare Demir, gli dice che si sente meglio e desidera tornare a casa. Tuttavia, Umit, con un tono risoluto, le fa notare che non può lasciare l'ospedale fino a quando non avrà completato tutti gli esami necessari. Sevda, con un'aria determinata, afferma di sentirsi bene e non vede motivo di preoccuparsi. Ma Demir, con tono autorevole, le ricorda che un infarto non va preso alla leggera. Nel tentativo di alleggerire l'atmosfera, commenta, per fortuna, Umit era nel suo ufficio quando è accaduto. Siamo stati in grado di intervenire immediatamente. Demir cerca di capire meglio la situazione e chiede a Sevda se era andata a trovare Umit. Con un sorriso enigmatico, Sevda risponde positivamente, dicendo che aveva bisogno di un controllo medico, poiché si era sentita male fin dalla mattina. Demir osserva Umit con uno sguardo penetrante, come se cercasse risposte non dette. Mentre il silenzio riempie la stanza, Zuleya si allontana per un momento per cercare un cuscino confortevole per Sevda. Demir, sempre più ansioso, si avvicina a Sevda cercando di scoprire la verità dietro i suoi occhi e le chiede se qualcosa di particolare l'abbia sconvolta. Con voce preoccupata, insiste. Cosa è davvero accaduto? Oppure ti ha detto o fatto qualcosa che ti ha turbato? Sevda, cercando di mantenere la calma, risponde che non è successo nulla di particolare. Si sentiva debole dalla mattina e aveva pensato di fare un controllo medico. Voleva anche chiarire alcune cose con Umit, ma prima che potesse dire una parola, il buio l'ha avvolta. Demir, con uno sguardo penetrante, continua a insistere. È stata lei a causare il tuo malore? Ma Sevda nega con fermezza. Zuleya, tornando nella stanza, percepisce l'urgenza di tornare a casa per occuparsi dei bambini, ma in quel momento l'arrivo di Gulen porta un po' di sollievo. Demir, vedendo che la situazione è sotto controllo, suggerisce di tornare alla villa per occuparsi dei piccoli, sapendo che Sevda sarà in buone mani con Umit. Zuleya, rassicurata, annuisce e si prepara a partire. Con passo deciso, si avvicina a Demir cercando di placare le sue preoccupazioni. Ti prometto che non farò mai nulla per danneggiare Sevda. La mia lealtà è indiscutibile. Poi, entrando nella stanza, informa tutti che gli esami di Sevda sono stati rassicuranti, ma suggerisce che rimanga in osservazione per la notte. Prima di andare via, Demir lancia uno sguardo carico di dubbi verso Umit. Al loro ritorno alla villa, l'atmosfera è tesa. Fikret, nascosto nell'ombra, osserva la coppia e nota la loro complicità, rendendosi conto che il suo piano di seminare discordia tra di loro con le fotografie è miseramente fallito. E ora cosa accadrà? Lo volete sapere? Scrivete certo nei commenti e vi porterò il continuo. Iscriviti e lascia un mi piace. Ciao!